Molti di loro hanno una lunga esperienza alle spalle. Dopo anni di lavoro oggi non sanno quale sarà il loro futuro. Hanno manifestato davanti la sede della Regione Lazio i dipendenti del presidio ospedaliero di Villa Betania. La struttura, come anche gli altri Pio Istituto, a seguito del decreto commissariale 313 dello scorso ottobre, usciranno dal sistema di convenzionamento per iniziare un processo di accreditamento. Ma ad oggi nessuno sa quali attività e quanti posti letto saranno accreditati dalla Regione. Da quanto tempo lavora per Villa Betania? 24 anni. Qual è la sua qualifica? Infermiera, di corsia, turnista diciamo insomma. Ma da 38 anni svolgo questa attività. Qual è in questo momento la vostra situazione? Molto brutta, molto deludente perché abbiamo perso noi di dignità nei confronti dei pazienti, dei parenti. Viviamo nella continua minaccia di denunce perché purtroppo si lavora diciamo in condizioni pessime perché non abbiamo di che seguire come si deve il paziente. Siamo poco come personale. Disponiamo di molto meno cose. A partire dal vito a tante altre cose spesso giustifichiamo con il malato c'è questo e basta. Non era mai successo prima, specialmente non a Villa Betania. Villa Betania sta decadendo in tutti i sensi perché noi siamo in attesa di questo accreditamento ma nel frattempo non è stato fatto nulla. Cosa sperate che possa fare la Regione? Speriamo che la Regione accetti questo accreditamento o che comunque ci possano far continuare a lavorare in una maniera un pochino più gratificante diciamo perché se lo è per noi lo è pure per i malati, per la loro dignità, per il loro rispetto. Siamo in una condizione di lavoro precario quotidiano però ringraziamo i nostri datori di lavoro che sono suore che ancora ci permettono di percepire lo stipendio tutti i mesi.